Maxi operazione antidroga tra Casori e Caivano, 55 le persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Napoli che dovranno rispondere di detenzione e spaccio di droga, nonché dei reati di materia di armi e furto in abitazione, rapina. Le indagini sono state condotte tra marzo e luglio 2018 dai militari della sezione operativa della compagnia di Casoria. La zona operativa era il parco verde di Caivano, qui ogni indagato aveva un ruolo preciso, c'era chi prendeva gli ordini al telefono, chi invece si premurava di affidare la sostanza da recapitare a soggetti incensurati o in alcuni casi anche minorenni. Le consegne avvenivano in punti concordati e le persone addette al trasporto prestavano attenzione ad avere con sé solo piccoli quantitativi di sostanza stupefacente, nello specifico nei confronti di 24 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Tra le 24 persone arrestate dai carabinieri c'è anche Cira Migliore, detto Ciro, il transgender fidanzato con Maria Paola Gaglione, la giovane morta la notte tra il 10 e l'11 settembre scorso da Cerra a causa di una caduta dallo scooter, perché speronato dal fratello Michele Antonio Gaglione in quanto contrario alla loro relazione. Blizzi antidroga dei carabinieri anche a Caserta, 13 le persone arrestate per spaccio di droga. Il gruppo si reggeva su una solida struttura gerarchica con a capo Rosario Palmieri, detto Nerone, organizzatore e finanziatore del gruppo. Due i canali di approvvigionamento, il Parco Verde di Caivano e il quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli, ma la sostanza veniva lavorata a Caserta, proprio all'interno dell'abitazione di Palmieri, nel rione Vavitelli.